Il bottiglione con la scritta ancora lì, davanti alla porta dell'appartamento dove per 14 lunghissimi giorni la salma di Teresa Formica è rimasta, vegliata dal figlio di 55 anni, con disabilità mentali. E quel bottiglione racconta da solo tutta la solitudine, l'abbandono per una storia esempio dei nostri giorni. Via Boccaccio, Selvana. Qui, martedì, il corpo di una 94enne è stato recuperato, 14 giorni dopo la morte, e questo ventilatore sulla finestra della stanza dove giaceva lascia immaginare in quali condizioni fosse. L'allarme l'ha lanciato uno dei tre figli, passato per caso, e non quello che aveva l'incarico di controllare determinato dal tribunale. Il terzo, architetto con disturbi mentali, da giorni continuava a pulire continuamente dappertutto, dentro e fuori casa. C'era il figlio che tutti i giorni urlava fuori e dopo andava in giro per la strada e diceva parolaccia. Pensi che sua mamma stava morendo, era già morta, e lui era dietro la casa che raccoliva i fiori. Una situazione di disagio sotto agli occhi di tutti ogni giorno. Andava per la strada, tutti, 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 di tutto, si vive contro nessuno, ma contro il mondo. Una laurea brillante fino al cortocircuito della mente, per tornare dall'unica persona che non l'avrebbe mai rifiutato. La madre si è voluta tenere quello là, no, quel figlio là, perché ha detto dove lo butto. E tutto questo avvolto dal sottile velo dell'indifferenza generale, da quel minovao combattere legato alla convinzione che non ci si deve intromettere negli affari degli altri a prescindere. Ecco perché anche oggi c'è chi commenta così, passando dietro la troupe. Voi avete segnalato qualcosa? No, no, da qua io no, io abito qua. Questa qua, sentito cosa ha detto? Basto già io. Solitudine fuori ma anche dentro le famiglie. Mi ha fatto meraviglia l'altro figlio che ha detto che non va neanche a vederla.